Una tappa importante è quella di oggi che rende concretezza all'investimento di oltre 15 milioni di euro della regione Sardegna della mobilità elettrica, un investimento che consente non soltanto di dotare le grandi aree della nostra isola come Oristano, Cagliari e Sassari, ma anche i comuni dell'interno di auto elettriche. È un progetto che prevede l'implementazione di colonnine elettriche di ricarica in tutto il territorio regionale. Quindi quella di oggi possiamo dire che è un momento in cui viene resa concretezza del lavoro che si è fatto nei mesi scorsi. Nei prossimi mesi andremo anche negli altri comuni che hanno ricevuto il finanziamento e speriamo presto di poter anche inaugurare le colonnine di ricarica. Nella forma, nella sostanza, dimostriamo di essere una città smart. Sette macchine elettriche di caratteristiche eccellenti, grazie a un finanziamento della regione di 161 mila euro, grazie anche alla nostra disponibilità di colonnine elettriche finanziate con altre modalità e sicuramente grazie anche a tante altre cose. Nell'essere una città smart mettiamo in mezzo la mobilità sostenibile, quindi il nostro desiderio di progettazione e di attuazione di piste ciclabili, la differenziata che sappiamo perfettamente ci ha portato a riconoscimenti importanti. Siamo qua a Torre Grande, la bandiera blu che non è solamente un simbolo ma anche un fatto concreto, è una spiaggia con servizi. Se solamente ricordare che sul salvamento a mare il comune di Oristano investe una dotazione economica molto superiore al finanziamento regionale, quindi di circa quattro volte superiore, questo fa vedere quanto Oristano voglia essere una città smart.